Benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a parlare di Vagrant Song ed anche delle nuove espansioni Encore e Of The Race. Che cos'è Vagrant Song? E' un boss battler cooperativo da 1 a 4 giocatori con una campagna abbastanza lunga. E' un boss battler abbastanza semplice, abbastanza introduttivo se vogliamo, quindi non aspettatevi il livello di complessità di una Ion Trespass o di un Kingdom Death Monster. Qui siamo più sulla tacca di un Townsfolk Tassel di cui ho già parlato qualche video fa, quindi un boss battler abbastanza semplice ma comunque molto curato. In realtà come gioco Vagrant Song è uscito qualche anno fa, questa campagna è per due nuove espansioni ed ha la possibilità di recuperare tutto il materiale precedente. Le nuove espansioni vengono vendute a 65 dollari, mentre il pacchetto con gioco base più le nuove espansioni viene venduto a 130 dollari, a cui si aggiungono spedizione ed IVA e quindi il totale spedito ed IVA per le nuove espansioni è circa 96 euro, mentre per il pledge che contiene anche il gioco base è di 177 euro. La consegna è prevista per marzo 2024 che come data è molto vicina, è vero che non c'è molto da sviluppare dato che le nuove espansioni non sono enormi, ma è una data comunque molto molto vicina con in mezzo anche il capodanno cinese e qualche ritardo me lo aspetterei. Il gioco è solamente in inglese e c'è parecchio da leggere, la campagna ha una buona componente narrativa, non siamo assolutamente ai livelli di un Tainted Grail, ma un bel po' di testo c'è. Inoltre tutte le carte e tutte le abilità sono descritte in formato testuale, quindi è necessaria una buona conoscenza dell'inglese. La campagna non ha raccolto cifre enormi, ma comunque il progetto è finanziato ed è stato sbloccato qualche stretch goal. Per quanto riguarda la scadenza, la campagna durerà per altri circa 20 giorni. Detto ciò andiamo a vedere brevemente come funziona il gioco. Per far vedere un po' il gioco utilizzerò la demo ufficiale presente su Tabletop Simulator. La demo è quella originale di Vagrant Song, quindi non contiene il materiale delle espansioni. Una campagna di Vagrant Song parte dal libro degli scenari che riporta tutti gli scontri che andremo ad affrontare nel gioco. Ogni scenario, un po' di trama, la configurazione e le interazioni con la mappa, eventuali effetti positivi o negativi, ma per lo più negativi, che possiamo ottenere durante lo scontro, le condizioni di vittoria e vari eventi che si possono verificare. Essendo il gioco un boss battler in ogni partita, lo scopo principale è affrontare e sconfiggere un boss. Ed è interessante notare che la salute del boss varia in base al numero dei giocatori, ma fate caso anche al fatto che vengono considerati giocatori da 2 a 4. E questo vuol dire che il gioco non ha veramente una modalità completamente solitaria. Se si gioca da soli, bisogna controllare almeno due personaggi. Prima delle meccaniche, andiamo a vedere la plancia. Tutte le partite di Vagrant Song sono ambientate all'interno di un treno formato da tre vagoni, o in realtà la mappa viene leggermente personalizzata, piazzando ostacoli e punti di interesse secondo quanto descritto dallo scenario. Come potete notare, qui sono presenti vari token. Quelli con delle casse sono gli ostacoli, quelli con un numerino sono gli eventi, e poi è presente lo standee del boss. Ora gli ostacoli, nella stragrande maggioranza dei casi, servono solo a bloccare il movimento dei personaggi, ma in alcuni scenari sono interagibili. I token numerati invece rappresentano gli eventi. Quando il token di un evento si trova sulla mappa, un personaggio può andarci sopra e utilizzare un'azione per risolvere quell'evento. Poi lo vediamo più nel dettaglio, ma quando un personaggio risolve un evento fa un tiro di dadi, andrà a consultare il numero dell'evento sul libro degli scenari, e in base al risultato ottenuto otterrà un po' di trama e applicherà qualche effetto. Ma per iniziare a capire il gioco dobbiamo concentrarci solo su alcuni di queste, che sono il tracciato dei round, il tracciato con la salute del boss e i break del boss. Il tracciato dei round di base è ovvio, c'è un segnalino che parte da uno, dopo aver terminato le attivazioni di giocatori e boss e il segnalino avanza, la particolarità è che su questo tracciato può essere presente il token di un evento. Questo vuol dire che l'inizio di alcuni round potrebbero verificarsi degli eventi come descritto dallo scenario. Poi c'è il tracciato della salute dei boss. Ovviamente si parte da zero e si utilizza un segnalino per indicare qual è la salute massima del boss. Ora il tracciato della salute può sembrare ovvio, e potreste pensare che quando facciamo danni pari alla salute massima, il boss è sconfitto. In realtà ni, perché ogni boss ha più fasi indicate dai suoi break. Ad esempio, questo boss ha 3 break, vuol dire che la prima volta che esauriremo la sua salute, il segnalino dei break scenderà di 1 e la salute tornerà al valore iniziale. Ripetendo il procedimento, il break scende ancora di 1 e ripetendolo per una terza volta, il boss sarà sconfitto. Quindi i break sono le fasi di combattimento dei boss. Una cosa molto interessante è che anche sul tracciato dei break possono essere presenti degli eventi. Quando il segnalino break scendendo va sopra un evento, si andrà a risolvere anche quell'evento. Quindi in Vagrant Song gli eventi sono estremamente cuciti sullo scenario, perché non solo dipendono dal campo di battaglia e dalla nostra volontà di interagire con esso, ma saranno anche attivate automaticamente man mano che il tempo passa o che infliggiamo danni al boss. Un'altra cosa che è presente durante gli scontri sono i rituali. I rituali non sono altro che degli obiettivi che dipendono dallo scenario. Ogni obiettivo riporta le condizioni per completarlo e una volta completato si va a voltare la carta e si risolve l'effetto. Ora che abbiamo un po' capito il campo di battaglia, andiamo a vedere i personaggi. Ogni personaggio ha una scheda. Questa scheda riporta la sua salute massima, le abilità uniche di quel personaggio e quelle che sono le azioni comuni di tutti i personaggi. Tra le azioni comuni troviamo ad esempio il movimento, l'attacco, la ricerca e la cura. Accanto alle azioni è presente un numero e il significato di quel numero varia in base all'azione. Ad esempio il 3 accanto al movimento indica il numero di passi di cui ci si può muovere quando si fa l'azione di movimento. La seconda azione è il rovistare che permette di ottenere dei token che rappresentano dei consumabili e il numero rappresenta quanti di questi token possiamo ottenere contemporaneamente. Le azioni in basso invece sono attacco, ricerca e cura. Attacco e cura sono abbastanza ovvi, la ricerca è quella che utilizziamo per interagire con lo scenario ad esempio gli eventi e il numero a fianco di queste 3 azioni rappresenta il valore che dobbiamo ottenere da un lancio di dado perché quell'azione vada in porto. Ad esempio se un giocatore fa un attacco lancerà un dado e se il risultato è 4 o più l'attacco ha successo altrimenti fallisce. Ogni personaggio ha delle abilità di partenza, ogni abilità riporta il suo effetto, il bersaglio che può essere o il nemico o i giocatori o entrambi, il raggio d'azione dell'abilità, poi troviamo il numero di dadi che tiriamo quando utilizziamo l'abilità, sull'abilità a sinistra non è presente un numero ma il simbolo di una moneta, questo ve lo spiego tra un attimo perché riguarda l'attivazione dei personaggi. All'ultimo simbolo corrisponde il numero che dobbiamo avere sui dadi per ottenere dei successi. Oltre alle abilità i personaggi possono ottenere anche oggetti che daranno principalmente abilità passive ma in alcuni casi anche nuove azioni. Ora come potete notare la plancia di un personaggio ha 4 slot per le abilità e uno per gli oggetti, quindi si può equipaggiare al massimo un oggetto e al massimo 4 abilità. Tuttavia per quanto riguarda le abilità c'è una restrizione e c'è che alcune abilità possono essere equipaggiate solo a sinistra o solo a destra. Come potete notare ogni abilità può avere sul bordo una freccia a sinistra o a destra e questa freccia deve combaciare con quella dello slot dove la mettiamo. Poi ovviamente ogni personaggio anche il suo standee viene utilizzato sulla mappa. Ora come funzionano le azioni? Diciamo che il personaggio si vuole muovere verso il boss e attaccarlo. Ogni personaggio ha 3 monete che rappresentano le azioni che può fare. Ogni moneta è idealmente un'azione, quindi ad esempio se un personaggio vuole fare movimento metterà una moneta sopra il movimento per muoversi dal numero di passi indicato sulla scheda. Il movimento sulla plancia è solamente ortogonale, non si possono attraversare gli ostacoli, ma questo vale solo per i giocatori. Il boss può attraversare gli ostacoli e anche i personaggi. Oltretutto un boss quando si muove proverà ad attraversare più personaggi possibili, dato che per ogni personaggio che attraversa c'è un effetto negativo per i giocatori riportato sulla scheda del boss. In generale tutte le azioni funzionano così. Anche attivare un'abilità e un'azione e si mette una moneta sopra l'abilità. Qual è la particolarità? Che le azioni possono essere potenziate utilizzando più monete. Quindi ad esempio mettendo due monete sull'azione di movimento si possono compiere il doppio dei passi. Mettendo due monete su un attacco invece di tirare un dado se ne tirano due e così via. In realtà nella maggior parte dei casi mettere più monete sulla stessa azione di base equivale in un certo modo a fare quell'azione più volte. La questione cambia molto se le due monete le mettiamo su un'abilità. Perché le abilità hanno dei valori che dipendono dal numero di monete sopra di esse. Ad esempio per questa abilità il numero di monete determina quanti dadi si vanno a tirare quando la si attiva. Mentre in quest'altra abilità il numero di monete modifica direttamente il testo. Ora sui personaggi abbiamo detto quasi tutto. Resta da vedere più nel dettaglio come funziona la salute che è un po' particolare e il discorso degli oggetti consumabili. Quando un giocatore fa l'azione di rovistare prende tanti token da un sacchetto quante sono le monete che ha utilizzato su quell'azione e di questi token ne tiene uno. I token possibili sono 5 e ognuno può essere scartato per un effetto. Fin qui si comportano come un consumabile normale. Tuttavia i token che utilizziamo e scartiamo non ritornano immediatamente nel sacchetto ma vanno nel cycle track presenti in basso sulla plancia di gioco. Ora il fatto che vadano nel cycle track al momento non ci dice nulla ma è una cosa che tornerà utile quando andremo ad attivare il boss. Ora diciamo che il personaggio ha fatto tutte le sue azioni. Dopo che è terminato tocca al boss. Il boss si attiva dopo ogni personaggio quindi ad esempio con 4 personaggi il boss si attiverà 4 volte per round. Come funziona l'attivazione del boss? Qui è molto diverso dai tipici boss battler dove ogni boss ha un piccolo mazzo di intelligenza artificiale. In Vagrant Song tutti gli attacchi del boss sono riportati sul libro dello scenario. Ora come potete vedere questa pagina è divisa in due a metà. Perché ogni boss ha due stati, la faccina sorridente e quella triste. A inizio scontro un boss parte con la faccina sorridente, poi vari eventi e vari effetti di gioco possono farla diventare triste e viceversa. Quindi quando un boss si attiva si guarda la metà del foglio corrispondente col suo stato attuale. Poi per decidere quale attacco farà si va a pescare un token dal sacchetto dei consumabili e si guarda che attacco corrisponde questo token. Ogni attacco riporta di quanto si muove il boss, riporta anche il range dell'attacco e i suoi effetti. Una volta risolto l'attacco anche questo token viene messo sui cycle track. E qui entra in gioco l'importanza di questo tracciato. Come vedete a fianco dell'immagine di ogni token è presente un numero. Quel numero rappresenta il massimo di token di ciascun tipo che possono essere presenti sul tracciato. Quando qualsiasi tipo di token sul tracciato arriva al suo massimo, avviene un riciclo di questi token. Prima di tutto tutti i token sulla plancia tornano nel sacchetto, ma soprattutto ogni boss ha un effetto che si attiva quando c'è questo riciclo. E l'effetto cambia anche in base allo stato del boss. Quando un boss si attiva tipicamente uno o più personaggi subiranno danni. Quando un personaggio subisce danni, la salute diminuisce. Se arriva a uno, non siamo morti, ma subiamo una ferita. Quando subiamo una ferita andremo a coprire una delle nostre abilità, che rimarrà bloccata per tutto il combattimento, ma al termine dello stesso potrà essere curata. Dopo aver subito una ferita, la salute si ripristina. Quando terminiamo la salute al posto di perdere un'abilità, possiamo anche ribaltare un oggetto. In quel caso è rotto per tutto lo scontro e anche questo potrà essere riparato poi. Se un giocatore termina la salute e non ha più abilità o oggetti da utilizzare per le ferite, si andrà a voltare la sua scheda e diventerà un fantasma. Ogni giocatore in formato fantasma ha un'abilità, che andrà posizionata sopra una delle abilità che avevamo da vivi. Questa scelta è molto importante perché una volta finito lo scontro, l'abilità che abbiamo coperto sarà persa per sempre. Quando diventiamo fantasma, la nostra salute parte da uno e potremo recuperarla nel corso della partita. Se riusciamo a far ritornare la nostra salute a nove, torneremo nuovamente umani e non dovremo perdere abilità a fine partita. Normalmente se tutti i giocatori diventano fantasmi, la partita è persa. Ma il gioco comunque non prevede il game over, la campagna va comunque avanti solo con eventi diversi. Quindi riassumendo il ciclo di gioco abbastanza semplice, ogni giocatore attiva il suo personaggio nell'ordine che preferiscono. Quando un personaggio si attiva ha tre monete da spendere per attivare tre differenti azioni, oppure può utilizzare più monete per potenziare una singola azione. Scopo del gioco è infliggere danni al boss fino al suo limite di salute. Ogni volta che un boss arriva al limite di salute ha un break, questo vuol dire che passa di fase e la sua salute viene ripristinata. Quando il segnalino della fase del boss arriva a zero, il boss è sconfitto. Quando un giocatore ha risolto tutte le sue azioni tocca al boss, che andrà a estrarre un token dal sacchetto dei consumabili e in base al token ottenuto e allo stato attuale del boss si andrà a vedere quale attacco verrà eseguito. Sia che vincano i giocatori sia che vinca il boss, al termine dello scontro si andrà alla camp phase, che riporta anche paragrafi di trama diversi se sia vinto o perso. Poi in questa camp phase sono presenti vari passi, principalmente potremo acquisire nuove abilità. In ogni camp phase è possibile acquisire solamente un'abilità scegliendola tra due e una particolarità è che noi non sappiamo quale abilità acquisiamo, dato che in ciascuna scelta è presente una descrizione molto a grandi linee dell'abilità. Quindi da questa descrizione dobbiamo capire più o meno che tipo di abilità sarà ed eventualmente fare l'acquisto. Può capitare benissimo di interpretare male la descrizione, ma in realtà nessuna abilità è mai completamente inutile, dato che mal che vada ci dà uno slot da ferire in più quando subiamo danni. Poi altre cose che è possibile fare nella camp phase è curarsi, acquisire oggetti, oppure una cosa molto interessante è che possiamo acquisire una carta sessione spiritica. Questa carta di per sé non ha effetti, ma durante il prossimo scontro verrà messa sulla plancia e il boss successivo magari avrà delle regole aggiuntive se abbiamo o meno questa carta. Quando si prende una carta seduta spiritica non si sa l'effetto che avrà sul boss successivo è un po' un salto nel buio. Poi nella camp phase ovviamente si può salvare la partita, gestire o cambiare i personaggi, ma una delle cose più carine è che si avrà anche un evento narrativo. Quando si ha questo evento si pesca la prima carta del mazzo, si legge il testo dell'evento e ogni evento ha più scelte. A questo punto i giocatori devono scegliere indipendentemente e segretamente quale scelta fare. Per farlo utilizzeranno le loro monete, dato che ogni moneta riporta una lettera. Quindi ciascun giocatore a turno mette la propria moneta coperta a fianco dell'evento. Quando tutti hanno fatto si girano le monete e qui non è come al solito dove la maggioranza sceglie la risposta, ma ogni giocatore andrà a risolvere la sua scelta in base a quanto riportato sul retro della carta. Tenete presente che ogni camp phase è unica e viene riportata dopo ogni scontro, quindi le camp phase differiscono l'una dall'altra. Terminata la camp phase si può andare al prossimo scontro e sostanzialmente si ripete il tutto col prossimo boss. E a grandi linee questo è il gioco. Per quanto riguarda invece il contenuto il gioco base contiene circa 20 scenari, quindi grossomodo una ventina di partite abbondanti, il gioco non contiene miniature, tutti i personaggi nemici sono rappresentati da standee acrilici. A livello di personaggi il gioco base ne contiene sei tra cui scegliere. Poi c'è la prima espansione che è in core, questa aggiunge una nuova campagna con una ventina di scenari e sei nuovi boss. Questa espansione aggiunge anche una modalità per fare partite singole invece che una campagna e una nuova tipologia di scenari, uno per personaggio, in cui dovremmo salvare l'anima di quel personaggio. Sono stati aggiunti oltre 50 nuovi oggetti che possiamo trovare, nuovi dadi, nuove carte che portano nuove meccaniche, ma in generale un'espansione che va a estendere il gioco base ma senza cambiarlo troppo. Come componenti questa espansione aggiunge anche la versione fantasma degli standee dei personaggi, dato che nel gioco base gli standee erano presenti solo per la versione umana. Poi c'è un'altra espansione che è off the rails, questa espansione è molto più contenuta e sostanzialmente è dedicata a chi vuole rigiocare una campagna sia del gioco base che dell'espansione. In pratica va a modificare tutti gli scontri rendendoli più difficili o comunque diversi tramite nuovi eventi in modo da avere un incentivo per rigiocare il gioco. Sono stati sbloccati alcuni stretch goal, troviamo qualche nuova carta oggetto, un NPC che potrà apparire tra gli scenari e darci delle missioncine da completare, il vassoietto lancia dadi, uno scenario extra incluso in ogni pledge e in più come stretch goal è stato sbloccato un altro scenario extra ma questo è venduto come add-on e entrambi questi nuovi scenari aggiungono un nuovo boss. Nuove carte per la modalità di gioco one shot, una moneta in metallo, una relativa carta equipaggiamento, chi ha questo oggetto può lanciare la moneta e in base alla faccia che ottiene avrà effetti positivi o negativi. Questo è praticamente l'unico stretch goal che è esclusivo a kickstarter. Sempre come stretch goal sono stati aggiunti un paio di sacchettini in stoffa, mentre invece come add-on possiamo trovare il peluche di DC che è una sorta di gatto fantasma che incontreremo durante la campagna. Due nuovi scenari che erano usciti in occasione del lancio del gioco base. È possibile prendere come add-on anche solo il gioco base o solo le espansioni, ma di per sé non conviene perché il gioco base si trova meno in retail. Ad esempio è disponibile sia su fantasy store che su fantasy wealth a circa 70 euro che è meno di quello che vi costerebbe a prenderlo dal kickstarter. Le espansioni prese singolarmente non convengono nemmeno perché comunque si vengono a perdere tutti gli stretch goal, tra cui lo scenario extra che da solo vale 15 dollari e quindi effettivamente se interessano gli stretch goal non ha senso prendere l'espansione singolarmente, conviene prendere il bundle. Al prezzo di 3 dollari troviamo il regolamento aggiornato per chi ha la vecchia edizione, a 18 dollari il tappetino in neoprene della plancia di gioco e a 14 dollari lo scenario aggiuntivo sbloccato con gli stretch goal. Ora come sempre traiamo alcune conclusioni. Il gioco l'ho giocato nella sua prima stampa ed è molto carino. Riesce a fare quello che si propone di fare, cioè di offrire un'esperienza da boss butler non troppo complessa ma nemmeno troppo banale e mettendoci in mezzo anche un po' di narrativa che tiene comunque vivo l'interesse per il gioco ma senza diventare troppo pesante. I boss sono fatti molto bene e molto differenziati l'uno dall'altro e quindi anche questi terranno vivo l'interesse per il gioco anche solo per la voglia di vedere che boss capiterà poi. In tutto ciò contribuisce lo stile grafico che è molto curato. Come notate dalle immagini si rifà molto l'animazione anni 30 ma con un'impronta molto più creepy che su quello stile ci sta molto bene. Da un certo punto di vista lo stile ricordo un altro gioco dello stesso genere che è Townsfolk Tassel e proprio perché si rifanno lo stesso stile e allo stesso genere i due giochi vengono spesso comparati però direi che Townsfolk Tassel anche solo come stile differisce da Vagrant Song perché Vagrant Song ha puntato all'effetto creepy o inquietante mentre invece Townsfolk Tassel più al grottesco. Come componenti Vagrant Song direi che è nella media, gli standee rendono bene ma niente che non si sia mai visto, rimanente contenuto sono solo token e carte nella media. Lo eleva un po' come componenti la direzione artistica molto azzeccata che li fa sembrare migliori di quello che sono. La campagna interessante ma un po' stanca più che altro questo è dovuto al fatto che le manovre di gioco non è che siano moltissime proprio perché il gioco ha delle meccaniche di base semplici e nonostante i boss aiutino a tenere il gioco vario si arriva al termine della campagna abbastanza stanchi. Però comunque il gioco rimane interessante e per quello che offre e costa il gioco base io personalmente lo consiglio soprattutto se è il vostro primo boss battler. Per quanto riguarda invece le espansioni, Encore come espansione è ok, sembra aggiungere un bel po' di contenuto e non stravolge troppo il gioco, quindi se alla fine di una campagna di Vagrant Song ne volete ancora di più, l'espansione Encore ci può stare. L'espansione Of The Rails la trovo molto più superflua, già finire una campagna di Vagrant Song riempie abbastanza, rigiocarla interamente con delle modifiche per quanto grandi siano e visto il contenuto non mi aspetto comunque stravolgimenti, la trovo una cosa che può risultare pesante ed evitabile. Quindi Of The Rails la ritengo molto superflua come espansione, però considerando gli stretch goal e il prezzo del bundle, se dovete prendere Encore tanto vale prendere anche Of The Rails nell'apposito pledge. Personalmente non vi consiglio il pledge con espansioni e gioco base, perché appunto una campagna di Vagrant Song è un po' pesante e non è detto che poi alla fine avrete voglia di giocare il contenuto delle espansioni. Vi direi piuttosto di recuperare il gioco base in retail, così potete provarlo subito e magari farete in tempo a recuperare le espansioni in late pledge. Vi direi di tenere anche d'occhio Wiga, perché quando è uscito il gioco base è riuscito ad organizzare un gruppo d'acquisto e magari riusciranno a farne un altro anche in occasione di queste nuove espansioni. Con questo ho concluso, come sempre vi lascio in descrizione, il link al regolamento, il link alla pagina della campagna e anche il link a un paio di negozi online che vendono il gioco base. Al solito se avete domande e volete farmi sapere cosa ne pensate del gioco scrivetelo pure nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie